Siete dai dai basta Nessuno che commenta? Vediamo se resiste l'umidità Qualcuno che registra la potenza anche Guardare l'effetto motoscafo per favore, delle ventole Quanto sta andando? 500 watt 512 Non toccare i carri Non toccare niente No, basta di là Acqua Non passami da Non toccare i carri Non toccare i carri